Buongiorno a tutti voi e bentornati. In questo video vi presentiamo alcuni libri tecnici, dei manuali, dei libri di elettronica, un libro dedicato ad Arduino, un libro dedicato all'apprendimento dell'elettrotecnica, elettronica facile, capire l'elettronica attraverso la pratica, libri molto pratici, facili da comprendere, tutti ben spiegati, qui vediamo un titolo dedicato all'elettrotecnica, corso di elettrotecnica e misure elettriche, teoria, tecnica e pratica, il tester alla portata di tutti, questo è un libro che ci spiega come utilizzare il tester, sia quello analogico che quello digitale, tutti questi libri sono editi dall'editore libri Sandit. Qui vediamo un libro dedicato al PLC e ad Arduino, la scheda Arduino, qui un altro libro dedicato all'elettronica, per maggiori informazioni potete visitare il nostro sito www.elettronicadidattica.com e potete anche iscrivervi al nostro canale YouTube per restare informati con i prossimi nostri video. Grazie, al prossimo video. Grazie. Grazie.